Sì, numericamente siamo abbastanza numerosi, però abbiamo visto che c'è spazio per tutti ed è importante coinvolgere tutti, visto che, come abbiamo sempre detto, vogliamo fare i play-off da protagonisti. Sappiamo che sarà un po' un terno all'otto, però abbiamo visto che lo possiamo fare e per farlo da protagonisti c'è bisogno di una rosa ampia, noi ce l'abbiamo, quindi c'è bisogno di tutti e proprio per fare i play-off da protagonisti abbiamo bisogno di fare un'altra partita importante domani, cercare di vincere per essere la miglior terza dei tre gironi, che potrebbe darci dei vantaggi ai turni successivi. Poi, certo, giochiamo contro la quarta in classifica, quindi non sarà sicuramente facile e, come sempre, però siamo anche in un buon momento di condizione fisica. Teoricamente il Renate però non deve fare la partita della vita? Sì, sì, ma da un lato questo non farà la partita della vita, saranno liberi e sereni di giocare senza freni e senza problemi, quindi sicuramente gli unici che hanno qualcosa da perdere siamo noi. Potrebbe bastare anche il pareggio per qualificarsi? Potrebbe bastare, sì, dipende anche dalle altre, poi dipende dalle altre. Adesso siamo in vantaggio su tutte, con qualcuna potrebbe bastare un pari, con qualcuna invece se dovessero vincere serve vincere. Poi giocano dopo di noi. Se Avellino e Palermo non vincono, a noi basta il pareggio. Sì, sì, deve vincere anche il Cesena, sennò per assurdo possiamo perdere. Il Cesena è già, perché se vincere non ci interessa, perché vengono prese in considerazione le vittorie e noi ne abbiamo due più di loro. Eh, ma vanno a 69, noi se perdiamo siamo a 68. No, ho detto se noi pareggiamo. Ah, con un pareggio, sì, con un pareggio, sì, con un pareggio rispetto al Cesena sicuramente, con le altre dipende cosa fanno. Sì, occorre che non vincano. Sì, vale. Sono conti che non possiamo fare. È un po' assurdo il fatto che già domenica scorsa a Piacenza ci hanno fatto aspettare dieci minuti all'inizio del secondo tempo per fare le partite in concomitanza, che a noi non importava nulla. E domani, che a noi interessa sapere i risultati o comunque giocare in concomitanza con gli altri gironi, non si gioca a concomitanza con gli altri gironi, da ridere, però non lo so, sono un po' senza parole. Domani vedrete che magari all'inizio della partita e tra il primo e il secondo tempo ci sarà qualcuno che ci farà aspettare e non so cosa. Sicuramente succederà così. A noi non interessa nulla. Sì, sì, ma va bene questo, però visto che danno importanza nei play-off, alla classifica dei vari gironi, a noi interessa più i risultati del girone B e del girone C che dei nostri. quindi giocare in orari diversi, diciamo che non è, visto che c'è questa attenzione di iniziare tutti assieme, mi sembra un po' un controsenso. Sì, c'è già qualche necessità, dobbiamo valutare bene la condizione fisica di Bacchetti, di guerra, quindi c'è qualche situazione un po' borderline, però abbiamo anche due settimane di tempo per recuperare, per cui non vedo il motivo di far riposare qualcuno, a meno che si corra un rischio dal punto di vista fisico. E quelle due settimane di riposo ti fanno un po' paura? No, vabbè, stacchiamo. Sicuramente parlando? Ma dipenderà poi dopo chi incontri la prima dei play-off, se incontri una scuola che ha già giocato delle partite prima, magari arriva un po' più pronta di noi, però in realtà si sta fermi veramente solamente una domenica, quindi è come se un giocatore trova una domenica disqualifica, non è che dopo due settimane non ha più la condizione. Stiamo pensando che nel primo turno nazionale noi incontriamo una squadra che ha fatto una o due partite, non incontriamo una che non ha giocato. Adesso il regolamento l'abbiamo ancora studiato, però dovremmo incontrare una che esce già dai gironi, dai play-off dei gironi. E lo scopriamo dopo che... 3-4 giorni prima. Sì, vabbè, questo vale per tutti, è chiaro che... Infatti l'anno scorso a Bolzano nel secondo turno, cioè nel turno, negli ottavi di finale abbiamo saputo tre giorni prima che dovevamo andare ad Avellino e non è stata una trasferta comoda, però può anche, può essere, dipende da come arrivano loro. Chi è che vince tra Sutirol e Padova? Beh, è una bella... Beh, sicuramente Sutirol ha tutto nelle proprie mani. Il Padova aveva una chance domenica scorsa di scavalcare, non l'ha sfruttata. Anche Sutirol poteva vincere, vincere il campionato già, quindi si trovano a giocare tutto l'ultima partita, due partite dove, credo sia la Triestina che anche la Virtus Verona hanno ancora qualcosa da dire per il campionato loro, quindi sarà una bella... Sarà un bella... Sì. Ma è che era Taito? Io ho visto che era fuori per infortuni. Il campionato del Renate, te lo aspettavi così, l'estate scorsa? Il Renate da tempo e da anni che sta facendo molto bene, ha una proprietà seria, appassionata, li conosco da tempo perché comunque ci siamo sempre confrontati anche quando allenavo in Serie D, è sempre stata una bella realtà, hanno un presidente appassionato, un presidente che ci tiene e che nel loro ambiente riescono sempre a fare molto bene. Anche quest'anno hanno fatto grandi cose, hanno avuto sicuramente un calo nel girone di ritorno, questo indubbio, però alla fine arrivano quarti anche quest'anno, quindi la dimostrazione è che anche in un ambiente, diciamo così, tra virgolette piccolo si può fare il calcio bene e si può essere competitivi anche contro le grandi piazze. Loro lo stanno dimostrando da tanti anni. Beh, hanno avuto il Manoni per cui... Eh, anche con lui hanno sempre fatto bene, quindi, ma ripeto, all'impronta dell'ambiente loro e di quella che dà il presidente con entusiasmo, hanno una realtà dove stanno, dove sempre fanno, dove sempre fanno i loro campionati, si divertono. E noi qua non ci siamo mai contenti e vogliamo sempre migliorare, quindi è giusto andare in campo ancora una volta per fare il massimo, il meglio e provare, ripeto, ad arrivare, ad acquisire qualche vantaggio per i play-off. Poi ogni domenica, ogni partita è stata una partita da vincere dall'inizio, quando siamo partiti un po' così dovevamo vincere per forza già la quarta o la quinta di campionato e ogni partita sono state partite importanti e alla fine abbiamo raccolto, diciamo così, per merito di tutti, per merito della società che ci ha messo a disposizione tutto per far bene, per merito di tutti, del direttore che ha dovuto sostituire anche qualche pezzo importante che è partito dalla scorsa stagione, il nostro lavoro, il nuovo lavoro dei ragazzi, ci ha portato meritatamente al terzo posto, credo che sia una posizione ineccepibile, anzi forse sia recriminare qualche punto perso qua e là, però è stata finora una grande stagione, quindi dobbiamo solamente adesso preparare i play-off nel modo migliore e inizia già da domani perché vincere sarebbe già approcciarli nella posizione migliore possibile. Sì, si può avere qualche vantaggio, certo, quello lo sappiamo e quindi domani vogliamo fare, vogliamo far bene per, ripeto, per avere dei vantaggi. Non lo so, non sa neanche i nomi dei compagni, mi sa ancora, si è allenato qualche volta con noi, non parla italiano, è un ragazzo che ha delle buone potenzialità, ma io se potessi, dovrei avere un occhio di riguardo per Porro ad esempio, che è il nostro terzo portiere che si è allenato sempre con grande impegno e che non ha ancora fatto una presenza. Mi piacerebbe premiare Cristini che anche lui è stato con noi tutto l'anno e ha avuto poco spazio. Sì, no, forse ha fatto anche una presenza in campionato, però sono ragazzi che sono stati ai margini, ma che comunque sono stati sempre molto utili e disponibili durante tutta la stagione, quindi vediamo domani cosa succede. Cristini cos'è che aveva avuto? Ha avuto un problema fisico, ha avuto problemi di pubalgia per buona parte di stagione. Sì, sì, adesso è un mese che sta bene. Ah no, un mese che sta bene. Sì, sì, è un mese che sta bene.